Mister, c'è voluto un gol nel finale, però la prova è stata positiva anche oggi. Oggi mi è piaciuto tanto lo spirito che abbiamo avuto per portare a casa questa gara. Avremmo potuto fare molto molto meglio sotto il punto di vista del gioco perché siamo in grado di fare meglio, però ripeto, a volte le partite si vincono anche così e quindi oggi siamo contenti di averla portata a casa così. So che lei mi dirà che il merito è della squadra, però c'è tanto del suo in questa vittoria. Ha messo gli uomini giusti, ha cambiato il modulo nel modo giusto, ha detto ai suoi giocatori di crederci fino alla fine anche quando quel pallone sembrava perduto. Ma in questo mi piace perché la squadra risponde bene, abbiamo voglia di voler fare bene fino alla fine. Il merito è dei ragazzi perché siamo in tanti e tanti di qualità, quindi ovviamente chi entra, se entra con lo spirito giusto sicuramente è in grado di fare la differenza. La prossima partita contro il Torino può davvero essere la sfida decisiva per agganciare il secondo posto? Ma ogni sfida che arriva per noi è decisiva, oggi lo era e siamo stati bravi a superarla. Quella scorsa uguale, adesso arriverà il Toro, un derby sentito, ci piacerà giocarlo e ci piacerà provare a vincerla. Non c'è due senza tre, può essere un buon auspicio? Attacchiamoci anche a questo auspicio, per noi è importante riuscire a fare una partita con l'atteggiamento giusto. Sicuramente servirà una partita migliore di quella di oggi, però credo che abbiamo le qualità per farla. Ringrazio. Grazie.